Prova bene Perisic, c'è spazio per il croato, prova subito a chiuderlo, il Napoli, il cross è basso di Perisic, uscita sicura. Amo, com'è che si faceva a guardare i film in streaming? Io non mi ricordo, mi puoi spiegare passo passo? Conclusione, il volo di Andanovic! Amo, ci sei! Perso, 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 perso. Ah, eh sì, premi. Mela TNT. Allora, Mela TNT. Il vantaggio dell'Inter!